buongiorno a tutti benvenuti nel nostro maver studio oggi vi volevo presentare un galleggiante studiato espressamente per la pesca in carpodrome estiva dove abbiamo bisogno di tanta robustezza del nostro apparato pescante in particolare l'MWR NINFA questo galleggiante secondo me è specifico per la pesca a media e corta distanza in quanto ha una lunghezza piuttosto contenuta come tutta la serie MWR la robustezza è garantita dalla deriva in fibra di vetro impossibile da rompere materiale con cui è composto il ricorpo in roce taglio verticale e antenna cava altissima visibilità ed altissima resistenza ricordo che sia in questo galleggiante che in quelli che compongono la serie la deriva passa internamente al corpo e arriva fino a tre quarti dell'antenna il risultato è che l'antenna anche sotto trazioni o sollecitazioni estreme non si può mai rompere mantenendo una bollicina d'aria nella parte diciamo terminale dell'antenna che ci consente di garantire al galleggiante una portata molto elevata e in particolare la forma molto affusolata dell'MWR NINFA ci consente di effettuare degli inviti molto bruschi e molto veloci fatti in verticale in quanto il galleggiante esce bene dalla superficie dell'acqua e rientra molto velocemente sotto la superficie dell'acqua creando così degli inviti molto bruschi e il pesce specialmente in estate quando molto aggressivo aggredisce l'esca immediatamente un saluto e arrivederci ai prossimi video